ciao a tutti e bentornati su star wars for sarina è un sacco di tempo che non faccio video perché mi dispiace ho avuto tante cose da fare col sito di cucina e anche al lavoro quindi mi dispiace tantissimo non ho potuto far vedere come sono diventato kyber in tutte e due le classi sia per l'impero che per i ribelli però adesso voglio ricominciare diciamo così come avete visto c'è stato il conto alla rovescia hanno dato stanno dando le ricompense quindi vi mostrerò un attimino di spacchettamento di queste simpaticissime doppia classe kyber e andiamo a vedere cosa trovo per esempio soglia manetta gemma manetta un boba fett ma così così diciamo che non è stato proprio il massimo del massimo questa questa cosa che ho trovato a parte i soldi e niente vediamo un attimino invece il pacchettone di gilda chiudiamo qua che siamo arrivati a otto su dieci se non mi ricordo male di quindi di carte un bel posto forse sì forse no va bene dai questi proprio no vediamo po 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 sfigatine queste questa apertura questa apertura diciamo di di carte anche se da una parte il il buon ingegnere potrebbe far comodo allora come come sono arrivato in classe kyber con tutti e due ovviamente diciamo nella parte dell'impero usando il direttore orson krennic è il mazzo quello che usavo anche prima non è cambiato tanto tranne il fatto che avendo aumentato di uno il leader dello squadrone della morte bisogna fare un pelo più attenzione a quando si posizionano le carte perché perché altrimenti rischiate che vi trovate scoperti e vi fanno un culo pazzesco e per questo qua per questo motivo qua poi ho dovuto anche essendo che hanno splittato le classi sono dovuto arrivare anche kyber con con la con l'alleanza ribelle perché ero tipo mi hanno messo a 5.400 tipo e vedendo che non riuscivo ad andare avanti col mazzo che avevo prima che era simile a questo solo che al posto del guerriero wuki avevo il car armato no il car armato leggero ho provato a cambiare mettendo il guerriero wuki al posto del car armato e mi sono trovato molto molto meglio anche perché il guerriero wuki cammina più lentamente quindi lo potete mettere bene in fondo e aspettare che vi si ricarichi un sacco di energia perché costando solamente tre lui vi permette di fare di schierargli dietro un sacco di truppe e un'altra cosa fa molto più danno perché adesso io ce l'ho a livello 8 e fa 160 danni al secondo mentre invece il car armato ne fa solo 136 perché comunque sparando molto più lentamente è vero che fa 271 di danno ma spara molto più lentamente e diciamo che mi sono trovato meglio col guerriero wuki e infatti sono arrivato a 5.600 in cioè perdendone pochissime sono andato abbastanza sparato adesso che mi ritrovo così gli esploratori ribelli che ce li ho pronti per essere potenziati volevo non li ho potenziati perché speravo di trovare diciamo i tre guerrieri wuki che mi servono per portarlo a livello a livello 9 adesso aspetterò un attimino fino fino a queste diciamo ancora un giorno e poi al massimo potenzierò gli esploratori ribelli anche perché adesso i miei potenziamenti sono arrivati a costare un attimino troppo perché passare a 12 costa 11.000 no e quindi diciamo che è un po è un po pesante diciamo poi dopo diciamo il mio il mio classico mazzo questo qui del direttore orson krennic vi consiglio che se usate questo mazzo la carta da potenziare comune prima di tutti è il cacciatai vi spiego subito perché perché il cacciatai per uccidere il granatiere ribelle deve essere di pari livello cioè se io incontro un granatiere ribelle di livello 10 e ho il cacciatai di livello 10 il granatiere muore se il granatiere ribelle è di un livello più alto non muore rimane con uno sputo di vita ed è abbastanza noioso e mi sono trovato in parecchie difficoltà perché diciamo nei mazzi del dell'alleanza ribelle il granatiere c'è in tantissimi in tantissimi veramente tanti e quindi ho avuto un po di difficoltà ad ammazzarlo perché io ovviamente incontrando gente che aveva i garantieri almeno di livello 12 mi trovavo sempre con il con il cacciatai di livello 11 e non riuscivo mai a ucciderlo infatti ho potenziato prima gli assaltatori e me ne sono pentito infatti dovevo subito potenziare il cacciatai infatti è quello che ho potenziato dopo adesso sto andando per i per gli spadaccini che anche loro fanno fanno un sacco di danno poi un'altra cosa che ho fatto in questo tempo qua ho cambiato un attimino il secondo mazzo sia dell'alleanza che dell'impero allora per l'alleanza ribelle adesso sto usando questo qui di solito lo uso nel gioco nelle due contro due perché in uno contro uno mi trovo molto meglio con cassian anche perché ho le carte che mi servono diciamo di livello abbastanza alto questo qua con luke è un bel mazzo se se volete provarlo poi fatemi sapere com'è nonostante abbiano ridotto il costo di ben kenobi nel in questa patch qua nell'ultima patch io ancora diciamo costa sei per me troppo è vero che converte i nemici organici in una totta area e diciamo quelle volte che magari convertite il cavalcatore di dubak è una figata però diciamo se l'avversario dopo una volta che glielo fate è un attimino furbo vi manda contro magari schierando davanti il veicolo leggero oppure vi manda tipo degli assaltatori e voi il vostro ben kenobi poi dopo a parte morire e dare il buff a luke skywalker no che quando ben muore quando ben kenobi viene sconfitto per tante secondi il danno in flick luke skywalker aumenta del 20 per cento quindi a parte questo ancora non lo trovo diciamo diciamo utile però così con questo mazzo io penso che non mi trovo ancora da giocarci in single in single play perché devorrei avere luke da livello 3 che anche quel piccolo livello in più darebbe un boost esagerato al danno mentre invece per l'impero sto utilizzando quest'altro mazzo qui che è un mazzo con un consumo di energia bassissimo 2,7 ma diciamo che spacca abbastanza anche questo ovviamente io l'ho provato in due contro due che perché altrimenti non diciamo ho il grande inquisitore e diciamo l'ottavo fratello di livello troppo basso però spacca troppo perché nel momento in cui con la rete energetica riuscite a raggruppare i nemici e gli andate in mezzo col grande inquisitore la sua abilità avete fatto un disastro e poi avete tutto libero e potete sfondare tranquillamente diciamo provate anche questo mazzo se volete e fatemi sapere come va un'altra cosa è che comunque hanno messo nella patch è la questione delle gilde che anche mi piace cioè come avevo detto prima o poi faranno le gilde e penso che le faranno come clash royale infatti adesso fanno le gilde dove si può richiedere le carte e hanno fatto questa cosa qui della missione cooperativa che ogni settimana avrete questa missione che bisogna distruggere torri e generatori di scudi nemici più se ne distruggono più si aumenta di fase diciamo di rango il pacchetto il pacchetto gratis e fino ad arrivare al grado 10 dove vi daranno addirittura due due eroi problema è che ancora io sono entrato in questa nuova gilda qua sopra il leader ma ancora non sono riuscito ad avere un diciamo un pacchetto di livello 10 in due settimane e non lo so se magari cercarne un'altra o così via diciamo che per per adesso vi lascio qui così questo video non lo vado a fare troppo lungo no se se avete qualche consiglio da darmi sui mazzi se avete qualche suggerimento metti questa carta piuttosto che questa usa quella piuttosto che questa ogni ogni suggerimento è gradito perché adesso che sono arrivato a 6.000 e 2 ero abbastanza alto in classifica vorrei provare a puntare questa settimana ad arrivare sui 7.000 anche se è abbastanza difficile visto il tempo necessario di gioco per per fare così tanti punti e quindi vi aspetto con i vostri commenti se vi è piaciuto il video mettete mi piace iscrivetevi al canale ci vediamo al prossimo video e ciao ciao